Exoraptics, se cercate una vettura per la famiglia ma comunque compatta, questa potrebbe fare al caso vostro. Si parla di una 500X, modello Cross Plus, con un multijet 1.6 diesel a 120 cavalli, 4 cilindri in linea a 16 valvole. Troviamo una serigrafia qua sopra sul copono, che lo spacca in due, che viene ripresa poi sul tetto e sulle parti laterali della vettura. Cerchio in lega da 18, con una lunghezza di 4,27 metri, abbiamo comunque sia il sistema Keyless, per appunto aprirla senza dover premere niente, è larga 180 cm e alta 161. Abbiamo un bagagliaio di 350 litri, che può diventare mille se una volta che abbattiamo i sedili posteriori. Troviamo qua i sensori di parcheggio e una retrocamera per il parcheggio. All'interno della vettura troviamo questi sedili con una trama particolare, le scritte 500 ed è tessuto misto a ecopelle. Abbiamo qui al centro il pad touchscreen, dove appunto c'è il navigatore e tutto l'infotainment, i comandi per l'aria condizionata, abbiamo il, come dicevo, il cambio manuale e diversi vani portaoggetti. Qua sul volante abbiamo appunto il cruise control e tutti i comandi per poter usare il pad centrale direttamente senza stare a distrarci alla guida. Troviamo anche un caricatore 12V, abbiamo diverse prese USB e anche un AUX. Venite a trovarci per vedere questa 500X a Barzago da Rattics. Exorantics.